Saluto a tutti voi, voi che guardate Guardaco, il mio caro amico fotografo, io sono l'autore di questo libro dal titolo strano, non sono alcun sa forte, sono una latte, parla della mia vita, di come ho sconfitto il cancro, con tre F, la famiglia, la fede e la follia. Per saperne di più, leggetelo.